Porto la mia ragazza russa in giro per Roma e a mangiare la miglior carbonara della città Al mattino ovviamente allenamento, oggi allenato spalle e gambe E come post workout porridge freddo proteico al choco bounty La porto a fare una passeggiata al giardino degli aranci al tramonto Registriamo qualche clip insieme e poi la porto a Trastevere, il posto più vero di Roma Io ovviamente sto seguendo la dieta per la preparazione della gara Ma lei la carbonara se l'è goduta e si è mangiata anche un super tiramisù alla fine Il posto forse lo avrai capito è Tonnarello, questo è il conto Trasformati come per la Svega sulle mie storie